Anche oggi torniamo a parlare di alternative alla fibra ottica, un video che molti di voi mi hanno chiesto nei commenti dei video precedenti. Per chi non è raggiunto da connessioni a ultra banda larga ci sono diverse soluzioni che sfruttano il 4G e consentono di navigare con dei pacchetti che offrono internet limitato oppure 200 o anche 400 giga al mese, che sono comunque una quantità abbondante per navigare su internet. Il primo operatore mobile a lanciare un'offerta con giga illimitati è stato Vodafone. La sua offerta, Unlimited Red Plus, offre infatti una connessione senza limiti insieme a minuti ed sms limitati a 39,99€ al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Costo di attivazione per i già clienti 19€, per i nuovi clienti è di 3€, ma se si disattiva e non si è raggiunto un certo numero di ricariche, vengono addebitati 26€. In realtà c'era già un operatore ad offrire prima di Vodafone giga illimitati ed è Wind3, ma la condizione necessaria per avere questa offerta con giga illimitati è attivare la DSL o la fibra in casa. In questo caso è possibile avere giga illimitati sulla SIM 3 oppure 100 giga al mese su una SIM Wind, quindi non è una soluzione attivabile da tutti, ma solo per chi si abbona a Wind3 con la linea fissa. Io comunque ve la segnalo perché potrebbe tornarvi utile se rispettate queste condizioni. Parliamo adesso invece di alternativa, una soluzione economica per chi vuole avere tanti giga in mobilità. Si appoggia alla rete Wind e offre una velocità massima di connessione di 150 MB in download e 50 MB in upload e offre sostanzialmente due pacchetti con tanti giga. 100 GB al mese a 16,90€ per i primi 4 mesi, dal quinto mese costerà 19,90€. 200 GB mensili a 19,90€ per i primi 4 mesi, dal quinto mese 23,90€. Potete decidere se acquistare solo la SIM e inserirla nel dispositivo che preferite al costo di 49€. Quindi acquistando solo la SIM poi potrete inserirla in un dispositivo che avete già in casa, quindi un tablet, un telefonino, comunque un router Wi-Fi che supporti il 4G. Potete decidere anche di acquistare la saponetta Wi-Fi al costo di 99€, ideale per chi si sposta continuamente, oppure un router Wi-Fi 4G al costo di 159€. La permanenza minima è di 16 mesi con 50€ in caso di disattivazione. Il pagamento può avvenire con bonifico, bollettino postale o carta di credito. Un'altra soluzione è offerta da Broker per la telefonia, che si appoggia alla rete Vodafone e offre tre pacchetti. 150 GB al mese a 27,90€, 200 GB al mese a 30,90€, 400 GB al mese a 59,90€. Il costo di attivazione è di 49€. A questi vanno aggiunti la prima mentalità anticipata più 8€ di spedizione se scegliete un router da abbinare che, se lo volete, e solo se lo volete, costa 100€. C'è la possibilità inoltre di aggiungere alle offerte 50 GB extra a 9,90€ o 100 GB extra a 18,90€. La permanenza minima contrattuale è di 24 mesi con un costo di recesso di 28€. Ma la cosa forse più interessante di questo servizio è che se nel frattempo nella vostra zona dovesse arrivare la fibra ottica, voi potete decidere di abbonarvi ad un operatore telefonico per avere la fibra senza pagare i costi di disattivazione di Broker per la telefonia. Ovviamente se vi rivolgete a loro per attivare l'abbonamento alla linea di casa. Questo perché Broker per la telefonia sono appunto Broker telefonici che si occupano anche di attivare altri servizi per conto degli operatori. Un altro operatore ad offrire connettività tramite rete mobile è OG Link che utilizza la copertura Vodafone con una velocità massima di 100 MB in download e 50 MB in upload. 3 sono i pacchetti disponibili da 200, da 400 GB o la flat. In tutti il router è incluso nel prezzo e la cosa interessante è che non ci sono vincoli. La disattivazione è gratuita con un peravviso di 30 giorni. Il pacchetto da 200 GB costa 31,90€ più 53€ di attivazione. Il pacchetto da 400 GB costa 39,90€ con attivazione gratuita e in entrambi i pacchetti potete aggiungere 25 GB in più a 10€. C'è poi il pacchetto flat che costa 69€ al mese e offre internet senza limiti. Ma attenzione perché quelli che ho appena citato sono i prezzi di listino. Periodicamente infatti OG Link propone delle promozioni che scontano l'abbonamento mensile quindi vi invito a verificare tramite il loro sito web. Si può pagare tramite Paypal o bonifico. Se volete vedere come funziona OG Link vi lascio qui in descrizione una recensione molto precisa che ha realizzato Gesualdo Lomonaco. Queste sono le principali offerte, ovviamente ce ne sono anche delle altre. Io in questo video mi sono limitato a parlare di quelle soluzioni che ho trovato su internet insieme a feedback positivi degli utenti. E sono tutte soluzioni che sfruttano la rete 4G. È vero, costano di più rispetto ad una connessione tradizionale di rete fissa ma se non siete raggiunti da fibra ottica, da DSL o da qualunque altro tipo di connessione a ultra banda larga, queste soluzioni potrebbero rappresentare per molti l'unica alternativa per connettersi a internet. Ovviamente le prestazioni reali dipendono dalla copertura della vostra zona che vi invito a verificare prima di sottoscrivere qualunque servizio. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Grazie e alla prossima!